Intorno alle 18 di ieri i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Viale Trento a Vicenza per lo scontro tra un'auto e una moto, un urto violentissimo che ha scaraventato a terra il giovane Centauro. L'ambulanza è intervenuta nel giro di pochi minuti ma per il motociclista non c'era più nulla da fare. I Vigili del Fuoco arrivati dalla centrale hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il personale sanitario ha iniziato le operazioni per tentare di rianimare il giovane motociclista, andate avanti per molto tempo. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte del 21enne. Ferito il conducente dell'auto assistito anche lui dai sanitari e poi trasferito all'ospedale. La polizia locale di Vicenza ha effettuato i rilievi dell'incidente così da poter definire la dinamica dello schianto. Gli agenti hanno gestito anche la viabilità.